buongiorno a tutti benvenuti sul nostro canale youtube e sui nostri social e ci fermiamo perché è iniziato il caldo è molto caldo però se dobbiamo lavorare abbiamo bisogno di proteggerci con i giusti dpi soprattutto le mani anche nei lavori semplici e di giardinaggio sui lavori un po più complicati essenziale che le nostre mani siano protette in base a quello che dobbiamo fare ci fermiamo oggi un attimo per mostrare questa tipologia di guanto dal costo molto contenuto perché siamo a 1 euro e 50 che ha la sensibilità veramente di un guanto in lattice nitride eccolo qui un guanto semplice studiato però proprio per affrontare il periodo estivo infatti la sua caratteristica è di avere un'ottima manichetta di tenuta in modo che non scivoli e di avere una maglia non so se con il video si riesce a vedere bene molto fine ma al stesso tempo resistente perché è fatta con un polimero plastico di dovuta resistenza in modo da lasciare respirare la mano il più possibile nella parte inferiore quella a contatto con più prodotti è spalmato un prodotto di origine naturale in modo di non dare problemi di dermatiti per chi ha le pelle sensibili o chi deve portare tantissime ore il guanto e ci dà la resistenza all'abrasione di qualunque tipo di materiale che sia diciamo un lavoro da giardinaggio vegetale oppure un lavoro meccanico senza però mai perdere la sensibilità nel tatto infatti ci dà l'opportunità di cogliere con la massima precisione qualunque attrezzo senza 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 problemi si veste con semplicità nel modo che possiamo metterlo toglierlo tranquillamente e ci dà veramente una protezione questa è una taglia 9 precisa precisa la nostra mano e così possiamo fare anche i lavori più di precisione senza dover togliere il guanto protettivo e evita di sudare all'interno la cosa più bella è che su tutte le sue certificazioni che porta ci dà anche l'opportunità di non aver problemi con le pelli più sensibili che normalmente qualcuno può avere quando lavora anche cinque sei ore con il guanto addosso novità sostituisce gli ormai costosi guanti nitrile lattice che troviamo sul mercato con un euro 50 abbiamo l'opportunità veramente di avere un'ottima soluzione vi aspettiamo nel nostro negozio oppure anche nel nostro sito online se non avete modo di passare di qua anche se abitate vicino con un piccolo costo di spedizione potete tranquillamente acquistare questo guanto nel nostro sito online grazie dell'attenzione vi aspettiamo sui nostri social se avete bisogno di informazioni avete il nostro numero whatsapp oppure una mail che siamo a disposizione per qualunque richiesta o domanda grazie a tutti buona giornata